Massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpite infrastrutture civili e depositi dove sono stoccate le armi occidentali, sempre più tesi i rapporti tra Mosca e la Nato durante il raid, la Polonia fa decollare i propri caccia. Prove di intesa tra Israele e Hamas, Biden tuona, questa guerra deve finire ma le due fazioni rimangono ancorate alle proprie convinzioni e richieste, uno stallo che non fa bene a nessuno, meno che mai alla popolazione di Gaza. Fedeltà alla pace, Francesco riceve in udienza le ACLI e ricorda il valore intangibile della pace da difendere a ogni costo e da costruire ogni giorno attraverso le relazioni. Sempre più commercianti costretti a chiudere bottega, nel 2024 sono spariti più di quattro negozi all'ora, mentre aumenta in maniera incontrollata l'acquisto di prodotti di ogni genere in rete. Le storie di quanti convivono con la sclerosi multipla, uomini e donne che non smettono di lottare per vivere, come la coraggiosa 26enne Clara, a loro fianco la ricerca scientifica si prodiga per trovare una cura. Buonasera dal TG2000, in apertura andiamo in Ucraina, la Polonia schiera i propri caccia durante i raid russi, via libera anche da Germania e Stati Uniti all'impiego delle armi contro Mosca che attacca impianti energetici e infrastrutture civili, colpita secondo il Cremlino una base aerea nella regione di Leopoli. Elena Seno. Civili, infrastrutture, impianti energetici, è quanto la Russia ha colpito nell'ultimo attacco con più di 50 missili e 50 droni nel sud, nel centro e nell'ovest dell'Ucraina, a riferirlo il presidente Zelensky, mentre per il Ministero della Difesa di Mosca sono stati danneggiati arsenali per lo stoccaggio delle armi occidentali e impianti che lavorano per siti militari. Durante i massicci raid russi della notte, caccia polacchi e di paesi alleati sono decollati in missione di pattugliamento, sono scattate le procedure per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco, ha fatto sapere il comando operativo delle forze armate di Varsavia. È alta la tensione dopo il via libera a Kiev all'impiego di armi americane in territorio russo, arrivato dagli Stati Uniti con limitazioni all'area di Kharkiv, e successivamente il sì anche della Germania per l'utilizzo di quelle tedesche. L'Italia ribadisce il suo no con il ministro degli esteri Antonio Tajani che avverte se non si fa attenzione aumentano i rischi di una terza guerra mondiale. Incondizionato comunque il sostegno italiano all'Ucraina, questione di settimane l'invio di un nuovo pacchetto di aiuti e armi a Kiev, ha indicato ancora il titolare della Farnesina. Intanto a Singapore è giunto Zelensky per partecipare allo Shangri-Lai Dialogue, il forum manuale sulla difesa. Atteso a margine anche un incontro tra il presidente ucraino e il segretario della difesa statunitense Austin, dovrebbero definire i limiti dei raid con armi americane. In Medio Oriente Hamas considera positivamente la roadmap israeliana, ma a patto che vengano rispettate le proprie richieste. Da parte sua Netanyahu si dice pronto a porre fine alla guerra, ma solo determinate condizioni. Massimiliano Cocchi. Hamas ha fatto sapere di valutare positivamente il piano in tre fasi per arrivare a un cessato il fuoco annunciato ieri da Joe Biden. La prima fase durerebbe sei settimane, durante le quali ci dovrebbe essere il ritiro dei soldati israeliani da Gaza, il parziale rilascio degli ostaggi e l'ingresso di 600 camion di aiuti. La seconda fase prevede la fine permanente delle ostilità e il rilascio degli ostaggi ancora in vita, compresi i soldati. Nella terza fase ci sarebbe la consegna dei corpi degli ostaggi morti durante la prigionia e l'arrivo dei primi soldi per la ricostruzione della striscia di Gaza. Domani, al Cairo, è previsto un vertice tra Egitto, Israele e Stati Uniti per trovare un accordo che consenta di riaprire il balico di Rafe e far entrare aiuti nella striscia dove la situazione umanitaria è sempre più difficile, soprattutto per i bambini. Potrebbe essere un primo passo per far ripartire un negoziato che resta comunque tutto in salita. Netanyahu ha ribadito che la priorità di Israele è sempre la distruzione di Hamas, mentre i leader di Hamas all'estero hanno spiegato che a decidere sul piano saranno Yahya Sinwara e Mohamed Eif, ovvero i capi della fazione islamica all'interno della striscia. I familiari degli ostaggi hanno chiesto a tutte le parti di accettare subito la proposta del presidente americano Biden. Potrebbe essere l'ultima occasione per farli tornare vivi dopo otto mesi di prigionia. L'appello arriva poche ore dopo la diffusione di un audio in cui uno degli ostaggi invita gli israeliani a manifestare e a bloccare le strade di Tel Aviv finché non verranno liberati. La voce, secondo i familiari, è quella di Noa Argamani, la ragazza che avevamo visto chiedere disperatamente aiuto mentre su una moto i terroristi di Hamas la portavano via dal festival nel deserto dove avevano appena massacrato centinaia di giovani. La sua è diventata una delle immagini simbolo della tragedia del 7 ottobre. Rientriamo in Italia adesso per parlare della tragedia del fiume Natisone con i tre ragazzi travolti dalle acque e scomparsi. Rimvenuta la borsetta di una delle due ragazze con un cellulare all'interno ritrovata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. La zona continua a essere monitorata da elicotteri e droni. Vediamo allora i servizi di Federico Plotti e Alessio Orlandi. Le ultime immagini dei tre ragazzi sono queste. Si stringono in un abbraccio prima che l'onda di piena del fiume Natisone, ingrossato dalle piogge delle ultime ore, li portasse via. Siamo nel territorio di Premariacco in provincia di Udine. Nella notte il segnale di uno dei telefoni cellulari in possesso dei tre giovani è stato individuato da droni della protezione civile. Il dispositivo ritrovato all'interno della borsa di una delle due ragazze scomparse insieme al giovane, anche lui, di origini rumene. È lo stesso telefono da cui è partita la prima richiesta di soccorso al 112. Al momento si cerca soprattutto nella zona dove è stato rilevato proprio quel segnale. È lì che si concentrano le ricerche interrotte nella notte ma ricominciate questa mattina alle prime luci dell'alba. Le speranze di ritrovarli vivi diminuiscono, ogni ora che passa, l'ipotermia, la furia delle acque, circostanze che possono essere state fatali per i tre ragazzi poco più che ventenni. Nell'immediato in tanti hanno provato a salvarli ma ogni tentativo è stato vano. L'acqua di quello che nella maggior parte dell'anno è considerato non più di un torrente era fuori controllo, una forza incontrastabile che li ha portati via nonostante i molteplici tentativi di salvarli anche con le funi. La più giovane dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone è Patrizia Cormos. 20 anni, nata a Colleferro in provincia di Roma, vive e risiede a Campoformido, un piccolo comune del Friuli Venezia Giulia. Frequenta il secondo anno del corso di laurea in design e architettura ad interni all'Accademia di Belle Arti di Udine. Proprio ieri mattina Patrizia aveva sostenuto un esame e la passeggiata nel corso d'acqua con gli amici, hanno fatto sapere i parenti della giovane, era stata organizzata per cercare un po' di relax. L'altra ragazza di cui si sono perse le tracce è la 23enne Bianca Doros, originaria della Romania, nei giorni scorsi era arrivata in Italia per andare a trovare i genitori che vivono a Udine. Proprio nel capoluogo friulano Bianca ha incontrato anche il suo ragazzo, il terzo giovane che risulta disperso. Si chiama Christian Kasian Molnar, 25 anni, anche lui rumeno, ma residente in Austria. Un video che ha fatto il giro di sociale web, immortala il lungo e disperato abbraccio fra i tre ragazzi. Poi l'acqua che sale e la forza della corrente, vanificando il loro tentativo di restare uniti, li travolge e li trascina via. Papa Francesco incontra nell'aula Paolo VI le Acli, a loro affide il messaggio che la guerra non è mai inevitabile e che la pacifica convivenza è sempre possibile a livello internazionale, nella vita delle famiglie, delle comunità e nei luoghi di lavoro. Cristiana Caricato. Ottant'anni di cammino al servizio del bene comune. Francesco riceve in udienza le Acli, Associazioni Cristiane e Lavoratori Italiani, una rete sociale tra le più importanti del nostro paese e ne rilegge la storia indicandone stile e obiettivi. Un luogo dove incontrare i santi della porta accanto per il pontefice, coloro che si mettono a servizio di lavoratori, pensionati, giovani e stranieri attraverso i tanti sportelli sul territorio. Un patrimonio ecclesiale a cui Francesco raccomanda di non perdere lo stile popolare e sinodale che permette di cogliere le trasformazioni dal basso e di tenere insieme anime diverse con creatività. La fedeltà alla democrazia è da sempre un tratto distintivo delle Acli. Oggi ne abbiamo tanto bisogno. La società è democratica, continua Francesco quando a posto per tutti, soprattutto per chi è a rischio e marginazione. Tra i lavoratori fragili il Papa segnala le donne che patiscono forme di discriminazione e diseguaglianza. Poi l'invito a mantenere l'ispirazione cristiana è a costruire la pace. In un mondo insanguinato da tante guerre so che condividere con voi l'impegno è la preghiera della pace. Per questo vi dico le Acli siano voce di una cultura della pace. Nel 1946 gli italiani scrissero una pagina decisiva di democrazia. Così il Presidente Mattarella in un messaggio per la festa della Repubblica. Antonella Mazzateruel. Scrisse una pagina decisiva di democrazia alla scelta del popolo italiano nel 1946 così in un messaggio alla vigilia della festa del 2 giugno il Capo dello Stato. La preferenza per la Repubblica rispetto alla monarchia nel referendum di allora pose le basi per un rinnovato patto sociale. Sottolinea Sergio Mattarella per il quale fare memoria dell'ascito ideale di quegli avvenimenti fondativi è dovere civico e preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vita della nostra collettività oggi aggiunge inserita nella più ampia comunità dell'Unione Europea cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo la sovranità tra pochi giorni con l'elezione del Parlamento Europeo. Il testo del Presidente della Repubblica rivolto ai prefetti instancabili e operatori della Costituzione il cui prezioso lavoro scrive Mattarella va dagli spazi di mediazione per il superamento dei conflitti sociali alla cura di fasce deboli della popolazione a efficaci percorsi di accoglienza dei migranti alla tutela delle libertà dei cittadini a favore della coesione del paese per territori sempre più sicuri e vivibili. Dalla mezzanotte Palazzo Chigi verrà illuminato con i colori della bandiera intanto in questi minuti è in corso al Quirinale il concerto per il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano preceduto dal saluto del Presidente della Repubblica. Avvertiamo oggi a livello mondiale l'esigenza di impegnarsi per la pace, di perseguire insieme ovunque libertà e sviluppo. Domani come ogni 2 giugno l'esibizione delle frecce tricolori sopra l'altare della patria a Roma. Ultimo fine settimana dell'anno in cui gli italiani sono chiamati a lavorare per il fisco. Da lunedì infatti scatta il cosiddetto giorno di liberazione fiscale Luigi Ferraiolo. Fino a domani lavoriamo per le tasse e da lunedì lavoriamo per il portafogli personale. Allora tanto lo sappiamo che siamo in società con lo Stato solo che questi studi insomma vanno analizzati meglio perché penso che pure un po' di più. Quello in corso è l'ultimo fine settimana dell'anno in cui gli italiani sono chiamati a lavorare per il fisco. Da lunedì 3 giugno infatti siano essi lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati lavoreranno per soddisfare i propri bisogni e non più per pagare le tasse, le imposte, i tributi e i contributi sociali previsti nel 2024. Specialmente per la ristorazione per i bar, al di là di quello che si può pensare, il carico fiscale è molto alto e anche il costo del lavoro, non quello che noi possiamo dare ai nostri dipendenti ma le tasse che dobbiamo pagare sul lavoro sono molto alte. Siamo l'unico paese in Europa con la pressione fiscale più alta che ci sia, quindi diciamo che se abbasserebbero un po' le tasse e un po' la pressione fiscale sarebbero bene vettuti. Un gettito che per l'erario dovrebbe garantire circa 900 miliardi di euro. Questo esercizio teorico della CGA di Mestre dimostra empiricamente quanto sia eccessivo il carico fiscale che continua a gravare sugli italiani. Se per 6 mesi l'anno lavoriamo per le tasse, sebbene quest'anno la pressione fiscale sia destinata a scendere di 0,4 punti percentuali rispetto al 2023. Guardi, se non abbassare le tasse non mi viene in mente nient'altro sinceramente. Soprattutto nella nostra attività di ristorazione tutto incide, le utenze, i costi, il food, il personale, comunque grava tanto, molto. Oltre alle tasse, le multe stradali, i cui incassi per i comuni, l'anno scorso sono saliti del 7% da Vidmurgia. E' boom di incassi da multe stradali, lo afferma il Codacons grazie ad uno studio realizzato sui dati riferiti alle somme effettivamente incassate dalle amministrazioni locali tramite le sanzioni stradali. Secondo l'Associazione dei Consumatori, infatti nel 2023 gli incassi dei principali comuni italiani, grazie alle multe stradali, sono aumentati del 6,9% rispetto all'anno precedente, cioè 37,7 milioni di euro in più, raggiungendo nelle 20 città più grandi d'Italia la cifra complessiva di ben 584,7 milioni di euro. Il primato su fronte dei proventi complessivi è sempre di Roma, con oltre 172 milioni di euro nel 2023, in crescita del più 29,7% sul 2022, seguita da Milano con 147 milioni di euro, meno 3% rispetto al 2022. Potenza invece è la città che registra la più forte crescita dei proventi derivanti da sanzioni stradali, con un aumento del 110% in un solo anno. La situazione cambia se si analizza l'andamento delle multe elevate tramite Autovelox, apparecchi che hanno garantito lo scorso anno alle principali città entrate per complessivi 65 milioni di euro, in questo caso è Firenze e la città con i maggiori incassi, pari a 18,7 milioni di euro, seguita da Milano con 8,5 milioni, Roma con 7,5 milioni e Genova con 5 milioni Chiudono bottega i piccoli negozi, nei primi tre mesi dell'anno ne sono spariti quasi 10.000 Giorgia Bresciani Nei primi tre mesi del 2024 sono scomparsi quasi 10.000 negozi al dettaglio, oltre 4 ogni ora. Lo evidenziano le stime di Confesercenti che sottolinea come al crollo dei negozi così sponda un aumento degli acquisti online. Secondo i calcoli lieviteranno del più 13% nel corso dell'anno, generando oltre 734 milioni di spedizioni ai clienti. Confesercenti sottolinea anche che con la migrazione degli acquisti verso le piattaforme internazionali di e-commerce che spesso pagano le imposte in altri paesi, migra anche il gettito fiscale. Secondo le stime dell'associazione, il fisco italiano ha perso dal 2014 a oggi oltre 5,2 miliardi di euro di tasse. A pesare sulla scomparsa e soprattutto la frenata delle aperture, nel primo trimestre di quest'anno sono state 7.415. Dieci anni fa erano più del doppio. La desertificazione delle attività commerciali colpisce tutto il territorio nazionale, anche se a registrare i saldi peggiori sono le regioni con un tessuto commerciale più sviluppato. A subire infatti la perdita più rilevante sono Campania, Lombardia e Lazio. In Sudafrica per la prima volta il partito che fu di Nelson Mandela ha perso la maggioranza in Parlamento. Caterina Dall'Oglio. Il partito dell'Africa National Congress ha perso la maggioranza parlamentare in uno storico risultato elettorale che pone in Sudafrica sul nuovo percorso politico per la prima volta dalla fine del sistema di apartheid 30 anni fa. Con quasi il 99% dei voti conteggiati, l'ANC, un tempo dominante, ha ottenuto poco più del 40% nelle elezioni, un risultato ben al di sotto della maggioranza che aveva detenuto dal voto generale del 1994 che pose fine all'apartheid e portò l'ANC al potere sotto Nelson Mandela. I partiti di opposizione hanno salutato l'esito elettorale come una svolta epocale per un paese alle prese con una profonda povertà e disuguaglianza. L'ANC è rimasto il partito più grande ma ora dovrà cercare uno o più partner di coalizione per rimanere al governo. Il partito è stato anche accusato per le carenze dei servizi di base. Milioni di persone sono senza acqua, elettricità o alloggi adeguati. Il principale partito di opposizione, l'Alleanza Democratica, si è attestato intorno al 21%. Il nuovo partito MK dell'ex presidente Zuma, che si è rivoltato contro l'ANC da lui una volta guidato, è arrivato terzo. Quasi 28 milioni di sudafricani si sono registrati per votare. L'affluenza alle urne dovrebbe essere intorno al 60% secondo i dati della Commissione elettorale indipendente che gestisce le elezioni. Rientriamo in Italia dove è in corso un netto aumento dei casi di influenza fuori stagione nell'ultima settimana, oltre 150 mila casi. Cesare Cavone. I capricci del meteo quest'anno generano influenza, o meglio sindromi simili influenzali con migliaia di persone a letto. A guidare la carica delle sindromi di maggio-giugno c'è innanzitutto il rinovirus. In questo momento in cima alla lista dei virus respiratori che circolano in Italia. Quest'anno la stagione influenzale non vuole finire. In questo momento stanno circolando i virus cugini dell'influenza vera e propria. Rinovirus, adenovirus, enterovirus e purtroppo ancora qualche SARS-CoV-2, ma molto limitato. Valori però molto elevati, circa 150 mila casi stimati a settimana, proprio perché le condizioni meteorologiche facilitano la diffusione di questi virus che vedono i loro momenti migliori nelle fasi autunnali e primavera-estate e soprattutto quegli sbalzi termici in questo momento. Nessuna preoccupazione particolare, quindi la situazione migliorerà non appena si rientrerà nel corretto clima di stagione. Nelle prossime settimane dunque dovrebbe progressivamente spegnersi la circolazione dei virus tipici stagionali e addio influenza. Domani pomeriggio il Papa celebrerà la solennità del Corpus Domini a San Giovanni in Laterano. Dopo la Messa, la processione del Santissimo Sacramento fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore diretta su TV 2000 a partire dalle 17, ma vediamo il servizio di Paolo Fucili. È la festa che ha ispirato nei secoli infinite espressioni popolari di pietà eucaristica, soprattutto processioni in città e paesi, in Italia e nel mondo. E domani anche Francesco tornerà a celebrarla così, prima una messa alle 17 a San Giovanni in Laterano, poi la processione per le strade di Roma fino a Santa Maria Maggiore, dove il Papa impartirà sul far della sera la benedizione eucaristica nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. I fedeli però la conoscono meglio come Corpus Domini e nel centro di Roma torneranno a celebrarla col Papa dopo due celebrazioni in periferia ad Ostia e Casalbertone, due a San Pietro senza processione a causa del Covid e infine due saltate da Francesco nel 2022 e 2023 per problemi di salute. Già Paolo VI racconta in dettaglio la storia, la celebrò ad Ostia nel 68, domani invece si torna al percorso inaugurato nell'82 da Giovanni Paolo II e poi seguito da Benedetto XVI e anche Francesco nei primi anni di pontificato. L'antefatto e il famoso miracolo di Bolsena nel 1263, il sangue colato da un'ostia consacrata fra le mani di un sacerdote, passa un anno ed è Papa Urbano IV ad istituire la festa il secondo giovedì dopo Pentecoste, ricorrenza spostata poi in Italia la domenica successiva come anche Francesco fa da sette anni per favorire la partecipazione dei fedeli e non ostacolare il già caotico traffico dei giorni feriali a Roma. Il 4 giugno del 1944 migliaia di persone pronunciarono un voto alla Madonna affinché la città di Roma venisse risparmiata dalla furia della guerra. Nell'ottantesimo anniversario di quella preghiera nella capitale sono state organizzate una serie di manifestazioni. Nel pomeriggio di oggi una commemorazione storica e una processione. Allora ci colleghiamo in diretta con Rita Salerno. Buonasera Rita. Buonasera 1944-2024. Sono trascorsi 80 anni dal voto pronunciato dal popolo romano per ringraziare la Madre Celeste di aver protetto Roma e la popolazione dalle conseguenze drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. È una devozione quella per la Madonnina Salus Populi Romani che si è mantenuta intatta nel tempo e ne è una prova tangibile la statua che si erge alle mie spalle e che dal 1953 veglia sulla città eterna. L'opera è frutto di uno scultore ebreo Arrigo Minervi che è scampato agli rastrellamenti e che l'ha realizzata con il rame, con il bronzo raccolto all'epoca e poi ricoperta di lamina d'oro. La solenne commemorazione è stata affidata al sacerdote orionino Don Flavio Peloso che ha rievocato quel momento storico e poi ha fatto seguito la processione e tra poco la concelebrazione eucaristica affidata e preseduta dal cardinale Enrico Feroci, rettore del santuario del Divino Amore. Ed è tutto, linea allo studio. Adesso con Lucia Scione vi raccontiamo le storie di Clara e di Veglia, donne coraggiose che combattono contro la sclerosi multipla. Per almeno sette giorni l'anno i 140.000 italiani che convivono con la sclerosi multipla hanno voci e volti, come quelli di Clara che credeva di essere invincibile fino alla diagnosi a 26 anni nel 2021. Ovelia, una chef che dal suo letto non smette di lottare per vivere anche con la SM per compagna. Entrambe hanno deciso di non nascondersi. Col passare degli anni la malattia ha preso il sopravvento e ho dovuto abbandonare il mio lavoro. Tutto è cambiato, ho cambiato lavoro, ho cambiato casa, mia sorella è venuta vicino a me anche perché per i primi sei mesi ha dovuto farmi d'autista e anche a livello psicologico ovviamente ho avuto delle ripercussioni perché è cambiata totalmente la mia vita. Sostenere gli sforzi per l'assistenza e la ricerca è il destino dei malati di sclerosi e delle loro famiglie perché la cura potrebbe essere più realistica di quanto non si creda a riguardo le pro-resolvine, molecole lipidiche che intervengono nei processi infiammatori cronici sono le più promettenti. Sulla base di queste nostre scoperte abbiamo avanzato un nuovo approccio terapeutico alla malattia che è proprio basato sul risolvere l'infiammazione invece che di bloccarla come fanno i farmaci attuali. Molte persone invece interpretano la sclerosi multipla come la fine di tutto, come la fine anche della vita, ma io spero di combattere fino alla fine, di non mollare. Il nostro spazio musicale è dedicato agli Abba, il leggendario gruppo pop svedese, i quattro componenti hanno infatti ricevuto dal re Carlo di Svezia l'onorificenza di Cavalieri dell'Ordine di Vasa. Ce ne parla Francesco Durante. Hanno fatto cantare e ballare intere generazioni con brani entrati nella leggenda della musica pop come Dancing Queen, Mamma Mia, S.O.S., Fernando, Waterloo e dopo aver conquistato il successo in tutto il mondo vendendo oltre 380 milioni di dischi, gli Abba hanno ricevuto nel loro paese di origine, la Svezia, una prestigiosa onorificenza dal re Carlo Gustavo, diventando così Cavalieri dell'Ordine di Vasa. Grande emozione per i quattro componenti dell'iconica band, Agneta, Bjorn, Bernie e Annie Frid, che agli inizi degli anni 70 scelsero di chiamarsi Abba proprio in riferimento alle iniziali dei loro nomi. Oltre a festeggiare il Cavalierato, in questo 2024 gli Abba celebrano anche il cinquantesimo anniversario della vittoria all'Eurovision Song Contest in Gran Bretagna con la canzone Waterloo, che li fece arrivare anche ai vertici delle classifiche musicali extra-europee. Il musical Mamma Mia, in cui sono riproposte le loro canzoni più famose, ha ottenuto un successo straordinario con oltre 70 milioni di spettatori. Analogo trionfo per i film Mamma Mia e Mamma Mia ci risiamo, sempre sullo sfondo musicale dei loro leggendari brani. Il calcio, passerella di più di tre ore a Bergamo per l'Atalanta, stasera poi grande serata con la finale di Champions. Carlo Ancelotti insegue la quinta vittoria. Luciano Piscaglia. Si è colorata di nera azzurro ieri sera a Bergamo. Oltre 40.000 persone, praticamente un terzo degli abitanti, hanno stretto un appassionato abbraccio all'Atalanta per festeggiare la prima Europa League della sua storia, conquistata a Dublino battendo per 3-0 i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. All'imbrunire un autobus scoperto con la scritta Atalanta Campione è partito dalla città alta ed è arrivato allo stadio intorno a mezzanotte, scortato a passo l'uomo dai tifosi per oltre tre ore, tra cori, fumogeni e fuochi d'artificio. Sull'autobus con il trofeo, i protagonisti della storica impresa, i calciatori, i dirigenti e il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, che dopo aver ricevuto dal sindaco la medaglia della città, hanno condiviso l'entusiasmo dei tifosi. In attesa di sapere se contenderanno la prossima Supercoppa europea al Real Madrid o al Borussia Dortmund, che stasera si affronteranno in finale di Champions League. Alla guida dei favoritissimi spagnoli c'è Carlo Ancelotti, che cerca la sua quinta Champions da allenatore, da aggiungere alle due conquistate da calciatore. Un aggiornamento battuto poco fa dalle agenzie, scontri tra polizie e manifestanti nel corso di un corteo degli studenti a Roma. Bombe e carta sono state lanciate dai manifestanti durante gli scontri tra i collettivi e la Polizia di Stato. È tutto, adesso il meteo, poi la messa. Buona serata.